Finalmente si muove qualcosa in casa della Pistoiese che ha ingaggiato Jonathan Rossini in prestito dal Sassuolo nella scorsa stagione in Lega Pro con la maglia del Livorno. 28 anni di nazionalità svizzera, Rossini è un difensore. Per lui curriculum di tutto rispetto, visti i trascorsi con la Sampdoria in Serie A, Sassuolo in Serie A e Serie B e Bari come titolare in Serie B. In tutto e nella massima categoria, il giocatore nativo di Bellinzona ha disputato ben 31 partite, inoltre ha fatto parte di tutte le nazionali elvetiche fin dagli under-16. Rossini ha vestito anche le casacche di Savona, Cittadella e Legnano, sempre fra i professionisti. Nel campionato da poco concluso, con la maglia Maranto del Livorno, Jonathan ha disputato 16 partite realizzando un gol proprio alla Pistoiese nel 3-0 rimediato dagli Arancioni all'Ardenza.